Il campionato italiano è questo, il Basilio Mattia è una corsa che ricorda una figura storica di Monte Giorgio, maestro di ospitalità. Si fondono le cose ed è questa la magia del campionato italiano con i cavalli che vanno in partenza, con Usain Tolla, Vincenzo Piescoio dall'annunziata, favorito in seconda fila. Si va, luce accese, la macchina che si muove, problemi per Beckontop, problemi per Beckontop che rimane indietro, parte alto Usain Tolla, è libero adesso anche Vengoriongetto in seconda fila, la partenza con Zefiro Dette come previsione che va subito a scattare su Adamo Dipa e sul numero due di Bongallo Waisel. Zefiro Dette che spende per sfondare su Bongallo Waisel che tiene a destra Adamo Dipa, lì sotto si è posizionato Alta Seta del Pino in terza posizione con Achille BLV che è quello primo tra i cavalli che vengono da dietro e hanno chance, mentre ci sono stati i problemi nelle retrovie con adesso l'attacco di Adamo Dipa che va a sfilare su Zefiro Dette dopo il 25 e 7 per i primi 400 metri, problemi anche per Adamo Dipa, rimane così. Davanti ancora una volta Zefiro Dette, Achille BLV che viene via, sposta Alta Seta del Pino da lì sotto e va a prenderne la schiena con Enrico Bellè che adesso vorrebbe sfondare a palo lontano quando i cavalli transitano nei 55 e 2 i primi 800 metri, Enrico Bellè va a sfondare con Achille BLV sul Zefiro Dette che ha mollato prima Adamo Dipa, adesso è stato sopravvanzato da Achille che va al chilometro passato in 1, 9 e 9. All'esterno Alta Seta del Pino che ha preferito venire via, Jusentolle che aspetta, Bengurionget che non avrebbe spazio, dovrebbe fermare e venire all'esterno Alessandro Gocciodoro se vuole andare a correre presto, nel frattempo Achille BLV mette assieme un 14,6 sulla dirittura opposta alle tribune, cerca di sottrarsi ad Alta Seta del Pino, Jusentolle adesso viene in terza ruota, lì sotto c'è sempre Vitale, Zefiro Dette con Achille BLV che finisce con lo sbagliare, colpo di scena incredibile, e così al comando adesso passa il numero 10 di Jusentolle con Vincenzo Piscola l'Annunziata in seguito da Bengurionget, Jusentolle che va verso il traguardo, Bengurionget che arriva a velocità doppia ma è Jusentolle che vince il Basilio Matti nei confronti del numero 9 di Bengurionget con Alessandro Gocciodoro, Vincenzo Piscola l'Annunziata davanti ad Alessandro Gocciodoro, terzo è Giuseppe Porzio Junior, probabilmente con Bongallo Waisel che prende 8 punti che possono fare davvero la differenza, la vittoria per Vincenzo Piscola dell'Annunziata che vince il Basilio Matti con Jusentolle guidando con pazienza ed attesa, secondo Bengurionget con Alessandro Gocciodoro, terzo posto per il numero 2, Bongallo Waisel con Giuseppe Porzio, vado a memoria, prende 8 punti e va davvero in alto, Giuseppe Porzio, quarto è Mario Minopoli Junior con Zefiro Dete, quinto è René Legati con Altasetta del Pino, Mauro Galandrini vicino a me, e attenzione, attenzione perché dai conti che facciamo noi il campione italiano in attesa di conferma potrebbe venire dalla Sicilia, potrebbe essere il più giovane e potrebbe essere Giuseppe Porzio Junior, ma intanto godiamoci Jusentolle, Mattia Orlando, Scuderia Santese, Vincenzo Piscola dell'Annunziata che vincono il Basilio Matti, 1, 10 e 9 per Jusentolle e questa è la prestazione davvero straordinaria dello svedese, favorito, si va da Mauro Galandrini per la premiazione del vincitore e del campione italiano. Ipotizzato che potesse essere la ragione del giallo è stata proprio la squalifica del vincitore di Jusentolle, cosa che non ha comunque modificato l'assegnazione del titolo di campione italiano, è inciso però, come detto, per un terzo posto. Mentre aspettiamo Alessandro Gocciadoro per premiare innanzitutto il Gran Premio Basilio Matti, gruppo 3, Alessandro credo che stia arrivando, poi procederemo a premiare anche i primi tre classificati del campionato italiano, guidato ritrotto. La giuria ha già comunicato l'ordine d'arrivo ufficiale e non dovrebbero esserci ulteriori provvedimenti disciplinari, se non quello già comunicato. È arrivato Alessandro Gocciadoro, a questo punto direi innanzitutto un applauso per il vincitore del Gran Premio Basilio Matti 2022. Allora andiamo verso la zona di premiazione, chiamando anche Alessandro Matti, il figlio di Basilio, che giustamente viene a presenziare questa premiazione di questo Gran Premio. Corsa di gruppo 3, dicevamo, Alessandro Gocciadoro che con un Ben Gurion Jet, direi più che ritrovato, viene così a cogliere questa corsa di gruppo. Alessandro, a caldo la prima domanda è questa, a Taranto cosa è successo? No, probabilmente il cavallo non era ancora pronto fisicamente, aveva fatto una lunga trasferta in Norvegia e non aveva corso male, ma ancora non fosse al top. È tornato a casa, abbiamo continuato ad allenarlo. Stasera gli ho tolto anche il freno, ho visto il cavallo più lungo con la figura, allungava il collo, mi è piaciuto tanto, anche già in sgambatura, l'ho sgambato un po' più piano. Insomma, qualche piccolo accorgimento. Ho guidato non proprio aggressivo, diciamo, quindi voglio che lui ritorna al suo livello, quando un cavallo è un campione, è un campione. Ha avuto un periodo un po' così, ma siamo bravi anche noi e stiamo cercando di recuperarlo in pieno. E questo è il bello di chi lavora dietro ai cavalli. L'ultima volta aveva deluso un po' per quello che è la caratura di questo cavallo, perché questo è un cavallo importante e non ci piove. E chiaramente mancava forse qualche corsa nelle gambe, anche l'approccio ad una gestione di corsa molto cautelativa ha portato comunque a questo buon risultato. Chiaramente avete fatto l'arrivo in due e lo avete fatto in piena spinta, quindi onore a entrambi, poi le regole sono regole. Sì, io sinceramente ero convinto che venisse tolto, tant'è che non vado neanche a prenderlo, io a metà retta ho esultato come se avessi vinto, perché ero proprio appena dietro loro quando è successo il patatrack dopo 400-500 metri. Era evidente che dopo una collisione così, insomma, se la colpa era del cavallo numero come sembrava anche a me dal sulchi, ovviamente le regole sono uguali per tutti. Assolutamente sì, io volevo solo dire che comunque il merito è senza dubbio e è fuori discussione di Ben Guriongette perché siete arrivati praticamente in spinta e insieme. Quindi grande corsa per Ben Guriongette che ritrova e sta ritrovando la forma, ma questo è un campione vero, non ha bisogno assolutamente che ciò sia provato. I complimenti per la scuderia Le Siepi Horse Racing, Alessandro Gocciadoro ancora qui nel Winner Circle con il team di Gocciadoro, con il ricco Gocciadoro e per questo cavallo fantastico. Premia Alessandro Matti, il premio in questo caso per il proprietario del cavallo vincitore, Coppa per il proprietario della SMA, un altro premio sempre da parte della SMA e quindi io arrivato a chiamare in causa ancora Alessandro per il premio Basilio Matti, Memoria Luigi Canzi, in questo caso la Coppa al guidatore Alessandro. Gocciadoro la stretta di mano con il dottore Alessandro Matti e questi sono i premi per quel che riguarda la SMA, ma c'è il Ciga che ha altre due coppe e la Coppa per l'allenatore e la Coppa per il guidatore, ma mi sembra di vivere un déjà vu perché questa cosa è già successa, è successa alla settima corsa, al Gran Premio Marche, sempre Alessandro ed Enrico Gocciadoro. Signori un applauso a questo team vincente che continua ad avere successi a ripetizione e non si tratta certo di un caso quando le cose accadono in questa maniera, una squadra veramente laboriosa e complessa, un'azienda da guidare, a tutti gli effetti veramente complimenti Alessandro. Grazie. Allora a questo punto io andrei avanti con le premiazioni, parliamo ora di Campionato italiano, quindi congediamo Alessandro Gocciadoro ed Enrico Gocciadoro e qui si va a questo punto a stilare la classifica.